Sì, noi abbiamo tanti problemi con Guagni, soprattutto dopo l'ultimo raduno con la Nazionale, si è fatta male con la Nazionale nell'ultima partita e da lì Ali ha giocato le ultime due settimane con noi, l'avete visto, purtroppo non è al 100%, Cleland lo sappiamo, non è assolutamente al 100%, Tortelli e anche lei rientrata dalla Nazionale infortunata, questa pubalgia devastante, però è in campo, ha stretto i denti, Michela Catena, Under23 è andata, sconvocata perché ha rischiato di rompersi il legamento, abbiamo avuto molta sfortuna con questi traumi, infortuni da trauma nell'ultimo mese, ma sfortuna la devi anche preventivare in una stagione e io non sono qua a lamentarmi perché la Juve ha perso Salvai e Rosucci, io voglio mettere testa alta, applaudire loro, applaudirle perché se lo meritano, ma anche applaudire le mie ragazze perché credo che abbiano dato le filo da torcere in maniera corretta e con grande cuore.